Provercelli! 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 Siamo con Mr. Cristiano Scazzola. Che cosa dire dopo questo pareggio? Provercelli, superiorità numerica, ha dominato il campo dall'inizio alla fine, eppure il Frosinone si è difeso coi denti. Un pareggio che comunque muove la classifica. Sì, io direi che anche 11 contro 11 oggi è stata una partita dominata. Questo è l'esempio che anche a volte quando si fa una grande prestazione non viene la vittoria, però penso che più di così oggi era veramente difficile fare. Purtroppo la palla non è entrata, penso che le occasioni siano difficili anche da contare da tante quante sono state, e quindi accettiamo il pareggio e basta, peccato. Si poteva fare qualcosa di più, a parte ovviamente il gol, che cosa? Di più non lo so, sinceramente più di così bisogna trovare il gol, però oggi veramente le occasioni sono state tante. Il portiere penso che ne ha fatti di tutti i colori, poi i rimpalli, il pallo al primo tempo. Poi addirittura è una partita che comunque stavamo anche perdendo. Ieri hai parlato del Frosinone come una squadra a primi sei posti. Confermi questa tua tesi dopo averla visti oggi? Sì, perché comunque ha una rosa da primi sei posti. Fino adesso aveva fatto questo, oggi devo dire che contro di noi ha fatto fatica. però voglio dire una partita, adesso da sabato prossimo si riparte da zero e andiamo ad affrontare il Carpe. Sette punti su nove, comunque nelle ultime tre partite un bel bottino che vi tenete stretti. Sì sì, peccato perché noi giochiamo sempre per vincere. Oggi purtroppo non abbiamo vinto, ma penso che veramente di più di quello che abbiamo fatto oggi sia difficile. Applausi a scena aperta da parte del pubblico alla fine della gara, nonostante l'1-1. Questo vuol dire che comunque la città si stringe, i tifosi sono con voi. Sì, è chiaro che oggi diventa anche difficile non premiare questa prova qua. Poi è chiaro che a volte il risultato fa la differenza, però siamo anche consapevoli che con una prestazione del genere spesso viene un risultato da tre punti. Prova a scendere! Prova a scendere! Prova a scendere!